Signori e signori benvenuti in questo nuovo episodio di MiniWorld, piccola intro per dirvi che oggi inizierà la serie come costruire. Io vi farò dei piccoli timelapse e comunque vi farò vedere come poter costruire determinate cose. Magari qualche cosa me la potete consigliare direttamente voi qui giù nei commenti. E direi che per iniziare, secondo me, il personaggino di Among Us potrebbe essere perfetto. Detto ciò vi lascio al video, noi ci vediamo al prossimo. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare questa nuova serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino, scrivendomi che cosa ne pensate. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.